Sesso a tre o più, sia con donne che con uomini, non mi faccio problemi. Stasera alle 22 sul mio canale Twitch torneranno le leggendarie live sull'erotismo. Il link ovviamente è qui sotto tra i commenti. Andate ad iscrivervi ed abbonarvi ovviamente. Se avete Amazon Prime l'abbonamento è gratuito. Oggi parleremo dei vostri desideri sessuali. Domanda che vi ho già fatto ieri sera sul mio Instagram? E queste sono solamente alcune delle risposte che mi avete mandato. Quali sono i vostri più intimi desideri sessuali? Vorrei scoparmi mia sorella, consanguinea. Sono serio. Ti ringrazio di averci specificato che le tue intenzioni sono serie. Spingerle la faccia in una torta mentre sta a pecora. Ma perché? Morire. Let's do it. Legarla, imbavagliarla, scoparla e fare il casalingo. Guarda che se non è consensiente non penso che te la svangherai pulendo le case. Sesso a tre o più, sia con donne che con uomini, non mi faccio problemi. Si chiamano orge, ma niente di più di un classico anal e sborrata in culo. Con tutto ciò che ne consegue. Auguri. Scoparmi una diciassettenne il giorno prima del suo compleanno. Beh, sarebbe comunque legale da tre anni. Pavido. Farmi straponare male dalla mia psicoterapeuta. Beh, devo dire che sta facendo un ottimo lavoro. La carbonara con la cipolla. Ah, quindi tua madre. Interpormi tra due donne che si sforbiciano. Quindi vuoi le botte. Il mio desiderio attualmente è che lei non sia incinta, visto che ha un ritardo. Del ciclo. Beh, in caso lo fosse, il ritardo sarebbe di entrambi. Non del ciclo. Scopare nella cappella sistina. Cappelleption. Venirle in bocca senza preavviso. Beh, aspetta meno che esca dal coma. Leccare da una ciotola tipo cane un misto del latte della mia visti incinta e dello sperma del suo boy. Buon pranzo a tutti. Quindi mi raccomando, stasera alle ore 22, in diretta live sul mio canale Twitch, magari anche con qualche ospite, poi vedremo, tornano le leggendarie live sull'erotismo. Non mancate a stasera. Bella. Bella. Grazie a tutti.